Senta, mi dice soltanto i ritratti dell'infinito, 12 primi piani e 3 foto di gruppo, chi c'è in questi 12 primi piani? Beh, in realtà sono concezioni diverse dell'infinito perché spesso si parla di queste cose come di tante altre idee metafisiche, come se fossero tutto un calderone, mentre invece si tratta di distinguerle, per esempio l'infinito di cui parlava Leopardi, in realtà, come diceva lui stesso, è quello che noi chiameremo più propriamente l'indefinito, oppure c'è il trascendente che è l'infinito di cui parlano i religiosi e così via. Naturalmente nelle discussioni politiche, forse più che l'infinito, bisognerebbe considerare quello che è l'altra faccia della medaglia, cioè l'infinitesimo. Napoleone, per esempio, che pochi sanno era un esperto di matematica, c'è addirittura un teorema di Napoleone, e conosceva i grandi matematici del suo tempo. Ad un certo punto ne prese uno che si chiamava Laplace, che era un grandissimo matematico, lo misa a fare il ministro, e dopo un mese e mezzo lo licenziò in tronco, perché, diceva Napoleone, aveva portato lo spirito dell'infinitamente piccolo nelle questioni del governo. E purtroppo il problema è che spesso appunto i governi, più che di interessarsi delle grandi questioni, di guardare a lunga distanza, si interessano di quello che sta direttamente di fronte al proprio naso, cioè appunto in termini matematici dell'infinitamente piccolo.